Noi siamo uno dei pochi paesi, per la verità, che rispettano le regole, a cominciare dalla regola del deficit del 3%. Noi stiamo abbondantemente sotto, stiamo al 2-2 con tutti i margini di flessibilità, che derivano, come prevedono i trattati europei, dalle riforme. Quindi è una manovra forte che serve a spingere la crescita, che oggi è la vera priorità, se negli anni scorsi la priorità era la stabilità finanziaria, oggi la priorità assoluta è crescita e lavoro, attraverso più consumi delle famiglie e più investimenti delle imprese.